a san giacomo cosa c'era cioè non volevano farti andare al cinema tu sei andato vada hai comprato la televisione te la sei portata a casa hai fatto prima cambiando discorso quando si portano le rose a primavera svegliatevi bambine alle cascine messe riaprire fai il rubacor e a tarda sera madonne fiorentine quanti ricordi diventeranno i prati in fior io i miei animali li tratto bene hai visto che caprone che ho che corna che ha che struttura che muscolatura che potenza hai visto no le bestie come solo io non ce l'ha nessuno cambiando discorso prima si ara la terra poi si fresa poi si fanno i solchi si piantano le piantine di pomodori e poi si mettono le canne hai capito cioè metteva sempre tre piante di pomodoro poi allora non eri così tanto bravo come coltivatore di pomodori guarda ti dico la verità anch'io non sono capace come coltivatore di pomodori però ho un progetto di diventare il più grande vivaista di pomodori ciliegine del settentrione all'alba quando spunta il sole l'anella bruzzo tutto d'or le prosperose campagnole o campagnola bella tu sei la reginella negli occhi tuoi c'è il sole c'è il colore del legnale delle valli tutte in fior la senti questa voce è un'armonia di pace il metro ma te li pianto io i pomodori sono un campione non è 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 non è